Nella parrocchia di San Pietro a Caltanissetta si è tenuto lo spettacolo ripensando Forza Venite Gente, 32 anni dopo. Attraverso questo musical la comunità ha avuto l'opportunità di rivivere e apprezzare nuovamente il talento e l'impegno di coloro che tre decenni fa hanno dato vita ad un'opera ancora capace di toccare profondamente il cuore di chi ne fa parte. L'origine del musical infatti risale a 32 anni fa quando un gruppo di giovani appassionati ispirati dai loro sacerdoti e mostri dal desiderio di condividere la magia e la spiritualità del Natale con la comunità ha creato l'originale spettacolo Forza Venite Gente. L'ottavo centenario del presepe vivente di Greccio ideato da San Francesco d'Assisi ha offerto l'occasione perfetta per rievocare quei giorni magici regalando al pubblico uno spettacolo che celebra la fede, la solidarietà e la bellezza intrinseca della stagione natalizia. E' stata una bellissima esperienza, noi facevamo il musical 80 anni fa quando eravamo ragazzi, abbiamo cominciato nell'85 se non ricordo male con il Cainabelle fatto dentro la vecchia chiesa, il prefabbricato di San Pietro e poi pian piano abbiamo continuato, siamo arrivati nel 92 con Forza Venite Gente che ci sembrava una montagna, non c'erano le basi, non c'era niente, abbiamo costruito le basi noi, abbiamo cantato con un solo microfono che i cantanti si passavano sul palco, è stata un'esperienza bellissima. Adesso ci abbiamo riprovato, più che altro è stata l'occasione per rincontrarci, poi c'è stata un'altra stagione di musical tra il 2002 e il 2010, insomma abbiamo continuato, ma quella fu la prima esperienza, veramente pionieri anche in città con i musical, è stata un'esperienza bellissima e oggi è stato bello ritrovarsi un po' tutti insieme. Lo spettacolo di questa sera è un segno piccolo di un seme che è stato piantato e che è germogliato e ha portato tanti frutti. L'augurio è che possa ancora oggi continuare questo frutto duraturo. Come parroco della parroccia San Pietro non posso che essere felice di questa serata la chiesa gremita di fedeli e penso che sia stato da parte della comunità parrocchiale San Pietro di Caltanissetta un bel modo per festeggiare gli 800 anni del presepe vivente di Grecio, così poi come è stato rappresentato nella vita di San Francesco e quindi mi auguro, così come già detto, da chi era presente 32 anni fa. Io non ero presente ma ho vissuto adesso questo momento bello, intenso, ecclesiale che possono esserci tante altre occasioni tra il passato per vivere bene il presente e prospettare un bel futuro.